Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, nuova fase dei lavori di rinnovo dei binari per la linea Trambiaria 8, un cantiere adesso è attivo all'altezza di Ponte Garibaldi e l'8 viaggia su bus lungo tutto il percorso Casaletto-Piazza Venezia. Lavori anche sui binari del 3 nella zona del Parco del Celio, la linea 3 continua a viaggiare con tram tra Valle Giuria e Porta Maggiore e su bus tra Porta Maggiore e la stazione di Trastevere. A proposito di rete tram, da lunedì prossimo si apriranno due cantieri per la manutenzione del manto stradale sulle corsie Trambiarie di via Bresadola e di via Prenestina e le linee 5, 14 e 19 saranno sostituite da bus tra Largo Preneste e Cavolinea di Togliatti e Gerani.